50.000 euro per sostenere l'attività dell'Associazione Teatrale Pistoiese, che raccoglie i principali teatri del capologo e della provincia di Pistoia. Questo è l'intervento di Publiacqua attraverso lo strumento dell'Art Bonus, finalizzato a finanziare la stagione teatrale in corso. Publiacqua, azienda anche del Comune di Pistoia, azienda del territorio, sostiene la cultura, lo fa in questo caso a Pistoia con una donazione annuale di 50.000 euro per il sostegno alla stagione teatrale del 2021 ed è per noi una partnership importante, noi ci auguriamo di diventare un partner del teatro, di poter sostenere le loro iniziative anche negli anni futuri, di poterla replicare e quindi di anno in anno saremo attenti a sostenere la cultura a Pistoia. Pensiamo di condividere insieme a Publiacqua un percorso non solo volto al sostegno in generale delle nostre attività tipiche, ma un percorso orientato molto alla formazione, alla cultura dell'ambiente e anche al sostegno di laboratori di formazione e lavoro che abbiamo in animo di sviluppare negli anni a venire. Questi sono tutti i temi che Publiacqua ha nelle sue priorità. Arriva in un momento in cui c'è proprio bisogno di sostenere la cultura? Sì, noi abbiamo deciso di rafforzare il sostegno al settore della cultura, oltre che quello allo sport o nel settore sociale, sono i settori dove c'è stata maggiore sofferenza per l'impossibilità di poter celebrare le stagioni teatrali, ad esempio, quindi riduzioni dei ricavi a costi che spesso sono rimasti invariati. La dimostrazione che l'Art Bonus funziona è uno strumento importante e permette alle aziende di fare sponsorizzazioni, di dare contributi per migliorare l'arte e la cultura, in questo caso il teatro. Sono contento che lo faccia anche Publiacqua nel nostro teatro provinciale, è un segnale importante di un'azienda partecipata che eroga un servizio ma utilizza anche i ricavi per migliorare la cultura nel nostro territorio.